Le zone di maggiore concentrazione delle cooperative, in particolare cooperative di consumo, si registrano in Valpolicella, ma anche nella bassa veronese e nella stessa città, nel centro storico. Nel centro storico era attiva, fin dai primi del Novecento, la cooperativa di consumo dei ferrovieri, che aveva diversi centri di smercio e in molti contesti provinciali comunque fiorirono esperienze volte a garantire un approvvigionamento a prezzi calmerati dei generi di prima necessità. Abbiamo ancora presenti attualmente, a 50 anni, 60 anni di distanza, esperienze di questo genere come la cooperativa dei lavoratori di Arbizzano, la cooperativa di Pedemonte, la cooperativa della Pellegrina, insomma testimonianza di un esplodere di queste esperienze fin dall'immediato dopoguerra. Ciò che caratterizzò queste prime cooperative di consumo fu il loro ruolo sociale, soprattutto di supporto ai movimenti politici socialcomunisti, soprattutto quando si unirono nello sforzo dei lavoratori impegnati negli scioperi bracciantigli del 1947-1949, in cui intervenirono per garantire un'immediata risposta alle esigenze alimentari di chi era impegnato in questi lunghi scioperi, che pretendevano un'immediata risposta anche dal punto di vista della sostenibilità materiale di chi si cimentava con queste grandi lotte. E quindi le cooperative vendettero a credito a molti lavoratori che si erano, come dire, cimentati con questi lunghissimi e sanguinosi scioperi degli anni 40. Le cooperative che si definivano cooperative rosse per loro matrice politica evidentemente avevano un ruolo nella costruzione del consenso anche per i partiti di riferimento, ma erano anche momenti di catalizzazione, di simpatie per un popolo più vasto, soprattutto nella realtà urbana, basti pensare alla realtà della cooperative dei ferrovieri che agiva proprio come collante sociale per intere categorie di lavoratori della città di Verona. La stessa cosa si può dire per esperienze cooperative di consumo presenti nei comuni in particolare della Valpolicella, dove accanto all'elemento politico c'era proprio un elemento di costituzione, un tessuto connettivo di una società che attorno a queste realtà nate dalle case del popolo si riconosceva, perché non rappresentavano soltanto un elemento di sostegno alimentare, ma anche un momento di aggregazione, un elemento di confronto civile che permetteva all'Italia del dopoguerra di riconoscersi in una nuova vocazione democratica.